signor presidente della regione calabria carissima iole porto a te e i tuoi cari a tutta la calabria il saluto commosso di tutte le regioni italiane siamo stati colti tutti impreparati dalla tua improvvisa e prematura scomparsa in questi lunghi mesi di emergenza ci siamo conosciuti bene lavorando fianco a fianco in lunghissime e quotidiane riunioni giorno e notte per affrontare al meglio la grande minaccia del coviti tu non hai mai risparmiato energie tempo e dedizione sei stata sempre presente al servizio del tuo popolo e del paese portando alla conferenza delle regioni un contributo prezioso e insostituibile abbiamo condiviso con te insieme a tutti i presidenti delle regioni un'esperienza istituzionale e umana che ci ha unito profondamente ci ha fatto crescere ha creato legami di stima e di sincera amicizia abbiamo percorso insieme un cammino che ci ha reso un'unica grande squadra oggi quella squadra piange per la tua perdita sente forte la mancanza della tua voce delle tue idee della tua passione civile che ci faceva sentire tutti più forti ti salutiamo con infinita gratitudine di chissà che hai messo una vita intera al servizio della calabria e dell'italia grazie